Questo è il mio primo piatto. Speriamo che sia buono. Pesce bianco. Molto buono. Tonno. Un top mellow. Altro pesce bianco. Questo era molto buono. Questo era sgottro. Andiamo a provare il salmone. Ultimo nigiri di pesce bianco però che non so cosa sia. Un romaki al tonno con avocado. Si presenta molto bene. Toccatina di sguiglia e in bocca. Fantastico. Pezzettino di uramaki con il salmone dentro. Buono ma che deve piacere lo speziato con l'erba al cipollino. Secondo piatto. Adesso hanno preso un vasabio le lacrime agli occhi. È fortissimo. Questa volta ho preso un listo di brolle, uramaki e di gunkka. Un po' Il broccolismo è finissimo. Qua sono le tre e c'è ancora gente che entra e ci siede. Ora ho porto la buona da mattina. Questo è un gunkan con spicy salmi. Spettacolare! Tutto bico col tonno. Spettacolare!